In questi giorni in tutti i comuni si sta approvando i regolamenti edilizzi e qui c'è un problema, il regolamento edilizio è uno strumento fondamentale per i comuni ma la giunta provinciale ha imposto un regolamento edilizio tipo che è un regolamento medio che non contiene tante cose che invece in molti comuni soprattutto nei più grandi sono state sviluppate negli anni e la giunta provinciale ha detto che i comuni devono approvare i loro regolamenti ma che quello provinciale è vincolante e quindi che cosa fanno i comuni? Alla disperata cercano di arrangiarsi e per esempio io ho qui l'esempio dei regolamenti approvati a Borsano e Bressanone, a Bressanone per esempio c'era tutta una parte del regolamento che il regolamento provinciale non comprende sulla bellezza della città e invece a Borsano sulla qualità edilizia e diciamo le misure contro l'impermeabilizzazione del suolo, il famoso regolamento RIE. Ecco, se questi due comuni avessero dovuto obbedire alla provincia queste parti non sarebbero state approvate. Cosa hanno fatto questi comuni? Hanno cercato una scorciatoia e hanno approvato degli allegati aggiuntivi non previsti dal regolamento tipo provinciale in cui hanno salvato queste loro norme. Però questi allegati a nostro parere sono fragili, non hanno una copertura giuridica perché se un imprenditore si sente danneggiato da questi allegati e naturalmente comportano magari costi maggiori nella costruzione può sempre impugnare la norma comunale dicendo che la norma provinciale è vincolante e non prevede queste cose. Allora noi diciamo, cara giunta provinciale non è possibile che il tuo regolamento, la nuova legge urbanistica costringa i comuni a fare un passo indietro rispetto alla qualità edilizia e alla qualità del costruire e dell'architettura nel loro territorio. Quindi proponiamo con la nostra mozione che la giunta provinciale approvi di nuovo una nuova delibera in cui dica non che il regolamento tipo provinciale è vincolante ma che il regolamento tipo provinciale è una base, tra l'altro questo lo dice anche la legge, è una base che i comuni che vogliono introdurre pratiche e norme più avanzate rispetto alla tutela del suono, rispetto alla tutela del clima, rispetto alla socialità eccetera, lo possano fare. In questo modo noi cerchiamo di scongiurare quello che è successo a Merano, a Merano c'è la commissaria quindi non se l'è sentita di correre rischi giuridici eccetera e lei cosa ha fatto? Ha approvato da sola perché la commissaria sostituisce il consiglio comunale il regolamento del comune di Merano prendendo uno a uno il regolamento provinciale e quindi per esempio è rimasto fuori tutta la parte del regolamento vecchio di Merano che riguardava Merano c'è il giardino, la mobilità, il verde eccetera. Questo è un delitto diciamo ed è una cosa sbagliatissima, non possono ripetere i comuni fare un passo indietro per colpa della legge urbanistica e doveva fargli fare semmai un passo avanti e per questo chiediamo alla giunta provinciale di correggere questa cosa che tra l'altro crea un'incertezza del diritto.